Musica Allarme meningite e psicosi ad Agerola, nel paese dove è morto il giovane Sebastiano Petrucci, la gente si è stretta intorno al dolore della famiglia, ma nel frattempo ha preso d'assalto le farmacie per fare scorta di antibiotici e vaccini. Si finge disabile e rapina la banca. Il bandito ha beffato così la guardia giurata all'ingresso ed ha fatto riuscione nella banca del centro direzionale di Napoli. Bottino 2.000 euro, in via Breccia le poste rapinatori dalle fogne recuperano 17.000 euro. Saldi in ritardo, commercianti in rivolta e polemica per i tre giorni di ritardo, per gli sconti di fine stagione si parte giovedì, ma gli esercenti attaccano. Non c'è stata concertazione. Per noi un grave danno. Anche l'opposizione si scaglia contro De Luca. Schianto sulla Teresina, due feriti gravi. L'incidente nel pomeriggio sulla statale 372, Traponte e Paupisi. Due le auto distrutte e due i feriti ricoverati in gravi condizioni a Rummo. E nel Salernitano, in un altro scontro, muore una 73enne. Pochi soldi per la manutenzione, così da settimane intere zone di Salerno sono senza pubblica illuminazione. Forza Italia accusa l'amministrazione comunale. Oltre le luci d'artista ci sono realtà di degrado. Due anni senza di nunno il ricordo di Avellino. Il 3 gennaio 2015 moriva il compianto sindaco del capoluogo Irpino. Il ricordo dei fedelissimi, Gengaro e De Stefano. Senza di lui si è spenta una luce sulla città. Oggi non la riconoscerebbe. Buonasera, questi titoli del nostro Tg. Allarme meningite. Mentre si moltiplicano i casi in Italia, da Gero alla paese nel Napoletano, dove è morto il giovane Sebastiano Petrucci. La gente si è stretta intorno al dolore della famiglia, ma nel fartempo ha preso d'assalto le farmacie per fare scorta di antibiotici e vaccini ormai e psicosi. Vediamo il servizio di Rossella Strianese. Una comunità in lutto che si è stretta intorno alla famiglia Petrucci in un lungo e doloroso abbraccio. Ad Agerola tutti conoscevano Sebastiano, detto Sebi, stroncato a soli 18 anni da una meningite fulminante. Il sindaco ha indetto una settimana di silenzio. La notte di Capodanno, vietati botti e festeggiamenti, i cittadini hanno fatto volare centinaia di lanterne cinesi per ricordare la giovane vittima. Ma intanto è corsa in farmacia per reperire antibiotici e vaccini. Nonostante le rassicurazioni dell'ASL, che ha invitato a fare la profilassi solo a chi è stato in contatto stretto con il ragazzo e i suoi familiari, tutti in paese temono il contagio. Soccorsi tutti in farmacia a prendere l'antibiotico, perché la preoccupazione era questa qua, perché non si sapeva che questo ragazzo, il 25, hanno fatto una festa a Piazza Generala Avitabile. Lui stava in mezzo a 2.000 giovani. C'è stato questo panico con la somministrazione degli antibiotici per la profilassi. Però purtroppo, vabbè, in certi casi non era nemmeno necessario. Diciamo, magari giustificato, perché nel panico, soprattutto per chi ha, come me, bambini piccoli, eccetera, però io le dico, per esempio io stessa, non l'ho fatta, non l'ho fatta e non l'ho fatta fare, perché comunque non c'era stato nessun tipo di contatto, per cui non... L'abbiamo fatto pure noi, perché stiamo a contatto con il pubblico, quindi automaticamente è meglio prevenire. Vabbè, se volete stare tranquilli e volete prendere la compressa, prendetela. Antibiotico? Antibiotico, sì. L'ha fatto fare anche ai suoi familiari? Sì, ma anche perché pure loro stanno a contatto con il pubblico, quindi... Una rapina dalle fogne all'ufficio postale e una in banca dove un uomo si è finto disabile. Il bilancio di una mattinata ad alta tensione nella zona del centro direzionale di Napoli. Il bottino dei due colpi, 19 mila euro. Vediamo. Doppio colpo in mattinata a Napoli, nel mirino una banca al centro direzionale e un ufficio postale in via Breccia a Sant'Erasmo. Nel primo caso un uomo ha finto di essere disabile e ha chiesto alla guardia giurata di entrare dall'accesso per i portatori di handicap. Una volta dentro, nella sede della Banca Popolare Etica del centro direzionale, ha invece puntato l'arma contro un dipendente e si è fatto consegnare circa 2 mila euro. A mettere a segno il colpo due persone. Il sessantenne, che si è finto disabile, è un complice di circa 40 anni. Nessun ferito tra i clienti e i dipendenti presenti, ma tanta paura. Ma non è l'unica rapina della giornata, quella in banca, quasi in contemporanea. Infatti, in due, percorrendo i condotti fognari, sono usciti da un buco realizzato sotto il lavandino del bagno e sono entrati, così, nella sede dell'ufficio postale di via Breccia a Sant'Erasmo. Il portavalori aveva da poco consegnato una ingente somma di denaro, ma la cassaforte era temporizzata e quindi i malviventi si sono dovuti accontentare, si fa per dire, di soli 17 mila euro. Anche qui paura tra i dipendenti e tra i clienti in fila, in pieno orario di apertura. Saldi si parte giovedì e polemica per i tre giorni di ritardo per le vendite scontate di fine stagione. Conf esercenti e Conf commercio parlano di occasione sprecata dai banchi dell'opposizione di Palazzo Santa Lucia. Polemiche sulla scelta che penalizza il piccolo commercio. Simonetta Ieppariello. 250 milioni di spesa stimate in campagna per il 2017. Comincia la grande attesa dei saldi quest'anno al via da giovedì 5 gennaio, anziché dal consueto secondo giorno dell'anno. Decisione della conferenza delle regioni, fanno sapere da Palazzo Santa Lucia, ma mentre i commercianti scaldano i motori scatta la polemica degli operatori del settore. Per noi è un grave danno perché la data del 2 era ottimale in quanto riuscivamo a percepire ancora quei turisti che rimanevano dopo il ponte di Capodanno a visitare la nostra città. Partendo il 5 perdiamo una buona fetta di clientela che rientreranno nelle proprie città. Come scusa è stata usata quella di omologare tutte le regioni d'Italia. Quando non è vero perché sempre oggi partono in Sicilia, quindi questa necessità di posticipare i saldi è una necessità che è stata trovata solo qua a Napoli, ma non era una vera necessità nazionale. Pronti ad attaccare anche i politici. Questa decisione, afferma il capogruppo campano di Forza Italia Armando Cesaro, ignora completamente il fatto che in un contesto di crisi economica i saldi rappresentano un'opportunità di vitale importanza per i commercianti ancor più in presenza di un notevole afflusso turistico. La falsa partenza dei saldi in campagna, afferma l'eurodeputato Fulvio Martuscello, ex assessore al commercio del governo Caldoro, dimostra come in regione governino dei dilettanti che non conoscono il tessuto produttivo del territorio. Ogni giorno chiudono 16 negozi, fa sapere Confesercenti. In 26.000 hanno chiuso in tutta Italia nel 2016, un dato che comporta il lento svuotamento dei centri storici. E in attesa dei saldi sentiamo le aspettative di commercianti e consumatori di Benevento. Partenza con qualche giorno di ritardo per i saldi invernali 2017. Le vendite promozionali prenderanno il via in campagna dal 5 gennaio e se c'è chi ha già pronta la lista dei desideri, c'è anche chi si lascerà tentare dalle offerte presenti nei negozi di abbigliamento e calzature. Le vendite di fine stagione saranno comunque occasioni per molti consumatori di rifarsi il guardaroba. Ho una borsa di Armani, qualche scarpa, di nero giardino e un giubbino di gesso. Sì, credo di sì. Cosa? Un pantalone, ma semplice. Il fatto che partano un po' in ritardo quest'anno? Pensavo che partissero il 2, sinceramente. Invece facendo il giro tra i negozi non sono ancora partiti, mi sono resa conto che non sono partiti. Per i commercianti l'appuntamento con gli sconti arriva quando c'è ancora una buona quantità di merce nei negozi, complice il freddo che non è venuto e la crisi che riduce i consumi, ma le aspettative non sono certo tra le migliori. Premesso che ormai è saldo tutto l'anno perché le promozioni, come sai, non hanno più i 40 giorni di paletto, per cui siamo tutti in promozione già dal novembre, non penso che il 2 o il 5 possa far scattare quel meccanismo psicologico che noi tutti aspettiamo. Diciamo che i saldi partono per data, diciamo, il 5 di gennaio, ma poi praticamente ti rendi conto che in giro la maggior parte delle attività vanno ad effettuare delle vendite promozionali. Che cosa vi aspettate? Ma guarda, non ci aspettiamo niente di che. Visto che il Natale è stato in sordina, qualche cosa uno magari lo aspetta ancora. Ed anche i commercianti di Salerno sono pronti all'evento con la speranza di poter rivitalizzare le vendite che sono state poco esaltanti nel periodo natalizio. Massimiliano Grimaldi. E' conto alla rovescia per i saldi invernali che partiranno ufficialmente giovedì 5 gennaio, la vigilia dell'Epifania. Un evento atteso non solo dai cittadini che potranno così acquistare ad un prezzo ribassato il capo di abbigliamento l'oggetto che avevano adocchiato nelle scorse settimane. I commercianti si preparano a questa data ed alcuni sperano nei saldi che termineranno il 2 aprile di rivitalizzare le loro vendite che nel periodo natalizio non sono state sicuramente esaltanti. Tre mesi quindi per la corsa all'acquisto intelligente, quello a prezzo vantaggioso andando a scovare le migliori offerte possibili per poter battere questa crisi che attanaia tutti ormai da diverso tempo. Purtroppo la stagione ancora non è neanche iniziata. Si spera che con questo inizio di saldi riusciamo a raddrizzare un po' le vendite che sono state un disastro quest'anno. Ci si spera che con questo inizio possiamo risolvere in parte la stagione perché onestamente non è che ci si può affidare solo e prettamente alle vendite dei saldi. I saldi devono essere il 2, sono stati cambiati questo nuovo anno, guarda ci stiamo preparando bene, aspettiamo tante persone e cerchiamo di andare sempre meglio. Che cosa posso augurare? Un po' a tutti i nostri amici commercianti di una buona vendita dei saldi sperando che possa tornare un po' il sorriso. Un lungo caffè al Gambrinus, ospite dei fratelli Antonio e Arturo Sergio per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In vacanza in questi giorni a Napoli il Presidente si è soffermato a lungo a parlare con i proprietari dello storico locale di Piazza Trieste Trento mostrandosi molto colpito dai grandi flussi turistici di questi ultimi giorni. La visita è durata circa 30 minuti e sono ore di apprezzione ad Acerno in provincia di Salerno per Mario Vece, il poliziotto ferito a Firenze da una bomba, il 39enne dovrà tornare sotto i ferri, ma vediamo il servizio. Non mi arrendo, qualunque cosa succeda voglio restare in polizia. Queste le parole del 39enne Mario Vece, il poliziotto ferito a Firenze mentre disinnescava una bomba davanti alla libreria di Casa Pound. L'uomo originario di Acerno in provincia di Salerno ha voluto rassicurare parenti e amici prima di rientrare in sala operatoria all'ospedale Careggi dove dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento all'occhio e alla mano gravemente danneggiati dall'esplosione. Lui, artificiere, è uno che non si arrende mai, lo dicono gli amici e la moglie che in queste ore gli sono vicini. Mario vuole continuare a fare il suo lavoro. Il poliziotto aveva da poco vinto il concorso per diventare ispettore e la nomina dopo un corso specifico sarebbe dovuto arrivare a breve. Il sogno è quello di diventare sostituto commissario. Ieri la visita del ministro dell'interno Minniti e del capo della polizia Gabrielli. La nomina arriverà, ha assicurato il ministro, l'Italia non lascerà solo un servitore dello Stato ferito. Intanto continuano le indagini per scoprire i responsabili. Quella bomba per puro caso non ha ucciso nessuno. La procura di Firenze infatti ha aperto un'indagine per tentato omicidio. Stefania, la moglie di Mario, non perdonerà mai i colpevoli. Chi ha compiuto quest'atto terroristico può essere descritto solo con una parola detto assassino. Auto in fiamme davanti alla questura di Napoli. Scatta l'allerta è accaduto nella centralissima via Diaz di fronte al palazzo della questura. Il fuoco sviluppato si per causa non ancora accertata e ha avvolto completamente la vettura abbandonata dal conducente in una manciata di secondi. Momenti di paura e piani di sicurezza immediati intorno al palazzo delle forze dell'ordine. I primi tentativi di spegnere l'incendio con estintori sono stati vani. È servito l'arrivo invece dei caschi rossi. Solo l'arrivo dei vigili del fuoco ha avuto la meglio sul rogo. Paura tra i passanti due le autobotti dei vigili giunte sul posto che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. La compagnia Alilauro ha sospeso tutti i collegamenti veloci da Ischia e Forio per Napoli e viceversa per le cattive condizioni meteorologiche. Viaggiano regolarmente invece gli aliscafi della Caremar e i traghetti della Medmar e Caremar. Sono ricoverati in gravi condizioni le due persone, rimaste ferite questo pomeriggio a Benevento in un incidente stradale avvenuto lungo la Telesina che dal capoluogo conduce a Telese Terme e Cajaniello. Il servizio di Alessandro Farrarino. Ancora una volta la famigerata Telesina fa tremare per la paura di nuove vittime. Non è stato così per fortuna stasera. L'incidente stradale registrato questo pomeriggio infatti parla di un bilaggio per fortuna non drammatico. Due persone ferite, una delle quali in maniera grave. L'ennesimo scontro frontale è avvenuto intorno alle 17 tra Ponte Popisi, Malle Telesina, all'altezza di un cavalcavia già teatro in passato di tragici sinistri. Questa volta a scontrarsi frontalmente sono state una Fiat Punto Furgonata e una Fiat Multipla, un urto violentissimo che ha letteralmente distrutto i due veicoli. Quando è scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e tre ambulanze del 118 con carabinieri e polizia stradale. I pompieri hanno dovuto estrarre i conducenti trovati incastrati tra le ramiere contorte dei veicoli, addestare maggiori preoccupazioni al conducente della Multipla trasferito in codice russo a Rummo. In ospedale anche l'altro automobilista. Traffico bloccato e lunghi codi in entrambi i sensi di marcia, fino a quando le forze dell'ordine non hanno terminato i rilievi e fatto rimuovere i veicoli distrutti. Un drammatico incidente anche a Sant'Egidio del Monte Albino in provincia di Salerno. Una donna di 73 anni ha perso la vita in un frontale con un autocarro, ricoverato in gravi condizioni il marito. Giovanni Battista Lanzilli. Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. Alle prime luci dell'alba a Sant'Egidio del Monte Albino una donna di 73 anni, Carolina De Angelis, originaria di Santa Maria la Carità, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Con lei alla guida il marito di 79 anni. Fatale lo scontro con un autocarro. L'impatto è avvenuto in Via Pepe in località Orta Loreto del centro dell'Agro. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche altri due veicoli. Ancora da chiarire le dinamiche della tragedia, ma quel che è certo è che è stato fatale uno scontro frontale. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Nocere Inferiore, i vigili urbani, i carabinieri e le ambulanze del 118 che hanno soccorso i feriti. Il marito della vittima è stato trasportato all'ospedale Umberto I in gravi condizioni. Con ogni probabilità l'asfalto reso viscido dalla pioggia ha complicato ulteriormente la situazione. Dopo l'impatto frontale ne è venuta fuori una carambola e l'auto ha finito la propria corsa contro un muro di cemento armato. Sulle strade salernitane si registrano dunque ancora vittime. A cavallo delle festività natalizie infatti si erano registrati ben sei incidenti stradali mortali tra i comuni di Giungano, Eboli e Atena Lucana. Oggi nel primo schianto dell'anno il decesso dell'anziana che si trovava a bordo dell'auto insieme col marito. Scoramento nella comunità di Santa Maria la Carità di cui la donna era originaria. Si continua a negare il diritto alla salute all'ospedale Rummo di Benevento e la denuncia dell'associazione Io per Benevento che parla di abbandono in efficienza. Il servizio di Maria Teresa De Lucia. Avrebbero dovuto operarla a Benevento purtroppo invece l'apparecchio per la risonanza magnetica era rotto e hanno dovuto trasferirla a caserta dopo ore di attesa. È accaduto all'ospedale civile Rummo a denunciare la vicenda che ha visto protagonista una giovanissima coinvolta in un incidente stradale l'associazione Io per Benevento. Il presidente del consesso cittadino è tornato a manifestare la sua preoccupazione per l'azienda ospedaliera Rummo. Queste sono le notizie che purtroppo fanno emergere una fotografia del nostro nosocomio cittadino. Veramente allarmante. Allarmante perché dopo gli ultimi accadimenti ricordiamo in ultimo questo decesso diciamo avvenuto la settimana scorsa al pronto soccorso e adesso questa ragazza che sta lottando tra la vita e la morte insomma è davvero paradossale. E nel principale ospedale cittadino si continua a negare il diritto alla salute in calza Schipani che invita la direzione ad un maggiore impegno. Noi vorremmo capire questi soldi dalla direzione come vengono utilizzati, come vengono spesi, come mai non si riesce a garantire nemmeno una risonanza magnetica in un ospedale di queste dimensioni. Schipani denuncia anche la mancanza di macchinari e la difficoltà degli operatori, i medici e gli infermieri costretti a lavorare in condizioni sempre più difficili. Nei prossimi giorni organizzeremo una manifestazione presso la direzione generale per rivendicare questi diritti. Sollecitiamo il prefetto che è l'organo di governo territoriale ad occuparsi del caso, ma soprattutto la magistratura che faccia piena luce perché qui si muore. Tunnel in 48 ore il comune di Avellino deve sbloccare l'impasse, spostare la conduttura del gas che impedisce la continuazione dei lavori e trovare una transazione con la ditta d'Agostino che però conferma la volontà di risolvere il contratto. Vediamo. Ad Avellino è corsa contro il tempo per completare l'eterna incompiuta, il tunnel. Il comune in questi due giorni deve sbloccare l'impasse innanzitutto riconoscendo gli oneri maturati dalla D'Agostino Costruzioni in oltre otto mesi di sospensione del cantiere e poi varando un'ultima perizia di variante per completare i lavori entro sei mesi. Se l'opera di mediazione dell'assessore ai lavori pubblici Costantino Preziosi andrà a buon fine, il cantiere si potrebbe rimettere in moto prima della metà di questo mese ed evitare al comune un salasso in termini economici e di tempo legato alla individuazione di una nuova ditta cui affidare i lavori. Innanzitutto c'è da risolvere il problema dello spostamento della conduttura di gas della Sidigas che insiste a pochi metri dal ponte della Ferriera. Poi Preziosi convocherà i responsabili della D'Agostino Costruzioni forse già domani per studiare una transazione che non dovrà scontentare nessuno economicamente e far ripartire il cantiere. Ma la soluzione sembra a dire il vero lontana perché il numero uno della ditta, Angelo D'Agostino, ha confermato la volontà di rescindere il contratto. Avevamo accettato la scommessa dell'opera per liberare la città da un'incompiuta ma lavorare così francamente è impossibile. Abbiamo deciso di rescindere per motivi economici e soprattutto tecnici. Il Comune non ha fatto il suo dovere perdendo un anno ed impiegando professionisti di basso livello. Se Foti e i suoi rimuovessero a breve la condotta della Sidigas e chiudessero il ponte della Ferriera, solo così potremmo farcela in due mesi. Altrimenti non siamo in grado di mettere nemmeno un chiodo e preferiamo uscire di scena. Pochi soldi per la manutenzione da settimana, interi quartieri sono senza pubblica illuminazione. Forza Italia accusa l'amministrazione comunale di Salerno. Nelle città delle luci tante zone al buio. Vediamo. Poche risorse per la manutenzione. È una città che non solo resta al buio, specialmente nelle aree periferiche, ma che cade a pezzi anche nel salotto buono come il Corso Vittorio Emanuele. Il consigliere di Forza Italia, Roberto Celano, accusa l'amministrazione salernitana, puntando il dito contro i pochi soldi a disposizione per i servizi indispensabili per la comunità. Credibile che nella città delle luci di Natale, invece, l'illuminazione pubblica risulta fatiscente in molti rioni della città. Siamo sollecitati quotidianamente. Faccio riferimento, per esempio, a via Francesco di Paola, a via Decrescenza, a via Panoramica. Strate che oramai da settimane sono al buio senza che l'amministrazione riesca ad intervenire per risolvere un problema che è anche un problema di sicurezza dei residenti e dei passanti. 30.000 euro e praticamente tre volte in più il cashier che abbiamo dato su Brett per fare il conto alla rovescia di accendere l'albero di Natale. E' un decimo rispetto a quello che abbiamo speso per la notte di Capodanno per pagare il concerto a venditti. Questa è l'amministrazione dell'apparenza, l'amministrazione dei finanziamenti a pioggia per finanziare in maniera di grandezza di qualcuno, ma poi invece è carente sui servizi pubblici, su ciò che davvero la gente aspetta di ricevere da un'amministrazione seria. Completamente errata, secondo l'ex sindaco di Benevento, Fausto Pepe, la decisione di Mastella di dichiarare il dissesto finanziario del Comune. Si pensa solo a fare feste e concerti, attacca Pepe, ma amministrare è un'altra cosa. Un dissesto che grida vendetta. Secondo Fausto Pepe, ex sindaco di Benevento, la scelta di Mastella di dichiarare dissesto è completamente errata, perché è basata solo su un computo sbagliato delle somme e su una volontà politica del sindaco, più che dalla situazione delle finanze di Palazzo Musti. Perché questo è un dissesto anomalo per come sta maturando, un dissesto senza dibattito, un dissesto dove vede un po' l'amministrazione attiva, iniziare dal sindaco che sembra che si interessi di tutt'altro, solamente parla di dissesto e di numeri quando deve dare qualche responsabilità ai governi passati, però poi quando si tratta di capire come si mette mano al risanamento si può parlare di volta in volta di spettacolo, di televisione, di politica, di altro, ma ci si distrae sui fatti amministrativi che invece occorrerebbero e occorrerebbe approfondire. Il compito dell'amministratore, del sindaco, di chi guida, non è solamente accusare, puoi dire che quella manovra era scorretta, ma nel contempo devi tentare di mettere su tutto quanto quello che è necessario. Pepe poi rilancia guardando alle manifestazioni natalizie e ai concerti, dichiarando che amministrare è altra cosa. È evidente che se tu pensi a fare manifestazioni, se tu pensi a fare il Natale, immagina di convincere qualcuno, ma lui immagina un dato, lui dice per ora posso ancora dire questo, per ora forse la città mi crede ancora, per ora ho la necessità di dire che quelli che c'erano prima di me hanno sbagliato. Ricorre oggi il secondo anniversario della morte di Antonio Di Nunno, sindaco illuminato di Avellino dal 1995 al 2004, nel pomeriggio celebrata una messa, per ricordarlo. Due anni fa era il 3 gennaio 2015, moriva all'età di 69 anni Antonio Di Nunno, sindaco di Avellino dal 1995 al 2004. Per ricordarlo, oggi pomeriggio presso la Chiesa Santa Maria di Costantinopoli è stata ufficiata da Don Emilio Carbone una messa, alla presenza del sindaco Foti e di tanti ex consiglieri e assessori comunali. Tutti ne ricordano il garbo, ma anche la determinazione nel ricercare una città modello, così lontana da quella che appare oggi Avellino. Ha sempre avuto l'ambizione di proiettare Avellino su una dimensione regionale, aveva il pallino della ferrovia, del collegamento veloce con Salerno-Benevento, che spero che si faccia al più presto, ma anche con Napoli. E poi è stato un sindaco molto coraggioso, che ha detto molti no, che è stato capace di bloccare il cemento ad Avellino con una variante di salvaguardia che non ha mai fatto nessuno ad Avellino. Molti dei sogni di Tonino, nostri, purtroppo sono andati persi perché dopo l'operazione Canaglia e i danni di Di Nunno sono cambiate le sensibilità. È stato per me un riferimento continuo, gli incontri con gli amici al bar che lui frequentava, nei miei momenti di difficoltà le parole di sostegno, la straordinaria energia, un uomo molto coraggioso, un uomo che amava la città come fosse una sua creatura e poi soprattutto il coraggio di andare avanti senza fermarsi mai. Un flash mob, incontri, concerti e più vivo che mai l'affetto per Napoli di Napoli per Pino Daniele a due anni dalla scomparsa nella notte del 4 gennaio 2015. Sono molti gli appuntamenti a partire da oggi con il ritorno della chitarra Paradise con una copia di quelle celebre usate dall'artista sulla facciata dell'edificio di Santa Maria la Nova dove è cresciuto Pino Daniele, posta proprio all'angolo della via a lui intitolata. La chitarra di ferro zincato era stata rimossa mesi fa per permettere lavori di riqualificazione all'edificio. Domani apertura speciale per tutta la giornata del Museo della Pace che dedica un piano a Pino Daniele con oggetti personali, video, registrazioni e strumenti. Bene, questa era l'ultima notizia, il Tg termina qui, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio al Tg Sport.